E lezioni la novità Berloni in mezzo a tanti sindaci bis a Pesaro si allunga la bici politana e arriva il bike hub alla stazione piada marina chiosco chiuso battaglia viva per la riapertura WL dopo un anno e mezzo riecco il pubblico pesarese all'arena Buonasera oggi è martedì 5 ottobre questo è il nostro telegiornale il telegiornale ufficiale di Rossini TV visibile in tutta la regione Marche questa sera partiamo parlando di elezioni elezioni amministrative che come ben sapete si sono concluse ieri sette i comuni al voto nella nostra provincia di Pesaro Urbino in una chiamata alle urne che si è rivelata all'insegna della continuità con tanti sindaci rieletti e una novità annunciata quella di Massimo Berloni nuovo sindaco di Fossombrone le urne non hanno rivelato sorprese i sette comuni della provincia di Pesaro Urbino convocati al voto domenica e lunedì per eleggere altrettanti sindaci e relativi consigli comunali per l'amministrazione del prossimo quinquennio si sono incanalati sulla strada della continuità e su una novità annunciata la novità è quella di Massimo Berloni che a Fossombrone era dato per favorito alla vigilia del voto e che le urne hanno premiato con una percentuale vicina al 60% capace di spazzare via i tre concorrenti in lotta e riducendo a un risicato 8% la candidatura della pentastellata Gloria May che rappresentava l'unico tassello di continuità con la giunta uscente di Gabriele Bonci non ricandidatosi alla poltrona di primo cittadino un'eccezione su una tornata elettorale che ha altrimenti premiato la strada della continuità in tutti gli altri comuni soprattutto a Mondolfo dove viene riconfermato con una vittoria schiacciante Nicola Barbieri il sindaco viene rieletto spazzando via la concorrenza di Anteo Bonaccorsi con un 84% di preferenze che significa aver vinto in ogni quartiere a Fermignano e a Mondavio vengono rieletti Emanuele Feduzzi e Mirko Zenobi con vittorie nette sugli sfidanti Betonica e Martino strada della continuità anche a Coglie al Metauro dove l'assessore Pietro Briganti rappresentante della giunta a fine mandato viene premiato con il 63% dagli elettori dell'unione di Saltara, Serrungarina e Monte Maggiore al Metauro 100% di preferenze invece per Filippo Gasperi a Gradara e Omar Lavanna a Mercatino Conca che correvano in lista solitaria senza opposizione e con unico nemico l'astensionismo alle urne Pericolo schivato in scioltezza da Lavanna che aveva già raggiunto il quorum del 40% delle preferenze nella serata di domenica mentre a Gradara l'elezione è risultata valida con un 46% che ha scongiurato il commissariamento solo in tarda mattinata Un dato di affluenza che diventerà materiale di riflessione visto che all'ombra della Rocca più di metà dei gradaresi si sono astenuti dalle urne Lieve rialzo dei contagi nella giornata di oggi nella regione Marche con 86 nuovi casi rilevati per una percentuale di tamponi positivi al contagio che si attesta al 4,3% Contenuto anche il rialzo dei ricoveri con 61 pazienti in degenza rispetto ai 59 di ieri Restano invece 16 ricoverati in terapia intensiva Ed ora andiamo a parlare di lavori pubblici nella città di Pesaro Nuovi interventi con nuovi finanziamenti che sono stati approvati oggi dalla Giunta Comunale che decide di allungare la bici politana unendo Vismara e Torraccia di realizzare un deposito biciclette alla stazione ferroviaria e di rendere definitive alcune rotatorie attualmente provvisorie Vediamo il servizio Nuovi interventi strutturali all'insegna della mobilità sostenibile sono stati approvati oggi dalla Giunta Comunale di Pesaro Si allunga infatti la bici politana con le comune che ha messo in agenda il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo collegamento tra i quartieri di Vismara e Torraccia seguendo l'arcine del fiume Foglia Un intervento da 450.000 euro di cui 337.000 cofinanziati dal Ministero della Transizione Ecologica per unire Via Lambro, Liri, Timavo e Gagarin Nuovi chilometri biciclabili ma anche un bike hub ovvero un deposito per biciclette al servizio dei parcheggi scambiatori che saranno realizzati alla stazione ferroviaria Un lavoro da 130.000 euro che l'assessore all'operatività Enzo Belloni fa sapere che andrà a gara di assegnazione a fine anno all'interno del più ampio progetto di riqualificazione della stazione sottoscritto recentemente fra comune e reti ferroviari italiane Ciclabili ma anche rotatorie Dopo anni di New Jersey diventeranno definitive sia la rotatoria di Largo Tre Martiri sia quella all'incrocio fra la Statale e Via Milano Due luoghi di transito molto trafficati per i quali saranno investiti 400.000 euro finanziati tramite allineazioni Nelle scorse settimane ci siamo occupati spesso del locale Piada Marina al centro di un polverone burocratico fra comune e autorità portuale Il chiosco è ora ufficialmente chiuso e presto verrà rimosso ma resta al centro di valutazioni in sede comunale per la regolamentazione delle attività economiche sul porto Dopo la straordinaria mobilitazione popolare che ha portato a raccogliere mille firme per salvare Piada Marina il chiosco che da 16 anni è sul molo di Levante del porto di Pesaro ha chiuso i battenti all'alba di ottobre come da cronoprogramma Non è però chiusa la battaglia per salvaguardare una attività imprenditoriale costretta ad abbassare le serrande per fine della concessione per mancanza di licenze edilizie e spazio demaniale occupato abusivamente Questa è la decisione dell'autorità portuale ed è una decisione che ha fatto discutere per settimane e che porterà le tematiche della concessione ad essere approfondite dalla Commissione Attività Economiche del Comune di Pesaro convocata d'urgenza per questo giovedì ad esaminare non solo il caso Piada Marina ma a verificare tante situazioni sotto esame in assenza di un piano regolatore del porto Una commissione che non coinvolgerà l'autorità portuale ma sarà strettamente interna a dirigenti e tecnici del Comune Intanto Piada Marina ha chiuso e gestori attraverso un post su Facebook hanno ringraziato i clienti salutandoli con una promessa Non sappiamo dove, come e quando ma torneremo Un dove, come e quando pertinente al fatto che dopo 16 anni il chiosco verrà rimosso La struttura simovibile appoggiata sul molo vedrà la disinstallazione delle utenze e sarà depositato in un capannone Questo quanto previsto da una situazione imposta dall'autorità portuale che, alla luce degli approfondimenti emersi nelle ultime settimane prevede che dopo tre mesi la struttura cessi di diventare mobile Per diventare fissa ha bisogno di una concessione edilizia non prevista dalle attuali norme demaniali Per un locale costretto alla chiusura ci sono invece altre attività che hanno deciso di aprire in un complicatissimo anno 2020 e per le quali da oggi è possibile anche fare domanda per ottenere il rimborso dei contributi delle spese sostenute nello scorso anno per imposte e tasse locali come previsto dal nuovo regolamento comunale approvato ad ottobre 2020 Una novità promossa dagli assessori Frenquellucci e Pozzi per sostenere le attività di nuova costituzione che usufruiranno della detassazione di tutti i tributi locali IMU, addizionale IRPEF, TOSAP, imposta sulla pubblicità e Tari beneficeranno delle agevolazioni anche i liberi professionisti sotto i 40 anni Si può inoltrare domanda entro il 24 ottobre esclusivamente tramite PEC all'indirizzo che vedete in sovrimpressione E dalle attività imprenditoriali passiamo ora alle associazioni di volontariato Dopo dieci anni di progetti di formazione in carcere sostegno alle famiglie svantaggiate e collaborazioni col Banco Alimentare le attività dell'associazione Braccia Aperte si trovano a un bivio non disponendo più di un deposito Il fondatore dell'associazione Mario Di Palma lancia un appello per la ricerca di una nuova sede Mario Di Palma è responsabile dell'associazione Braccia Aperte di Pesor un'associazione che da dieci anni attiva sul territorio con tante iniziative legate alla sensibilità verso il mondo penitenziario e del carcere ma non solo, è un decennio di attività però che ha un bivio proprio per problemi logistici Esatto Daniele, siamo arrivati a un bivio perché dopo tutti questi anni di attività a seguito del Covid abbiamo deciso di concentrarci notevolmente su quelli che sono gli aiuti alimentari e famiglie seguiamo circa 75 famiglie nel territorio pesarese che si sono rivolte a noi hanno iniziato a rivolgersi a noi dall'inizio della pandemia avendo sospeso le attività in carcere perché i laboratori a seguito dei focolai vari sono stati sospesi però purtroppo ci ritroviamo nella criticità di non avere una sede prima facendo esclusivamente laboratori poteva andare bene perché avevamo dei piccoli laboratori all'interno degli istituti penitenziari ma adesso questa criticità si fa veramente sentire perché siamo costretti se non troveremo a breve una sede, un piccolo magazzino utile a stoccare i generi di prima necessità saremo costretti a dover limitare queste attività quello che chiediamo è se c'è la possibilità o a livello istituzionale oppure anche da qualche cittadino che possa avere disponibilità di un piccolo locale o magazzino da dare, da cedere logicamente a un prezzo abbastanza diciamo umano per quello che sono le attività di volontariato che facciamo perché non percependo fondi pubblici per poter mettere a bilancio una sede sarebbe utile, oltretutto noi oltre a quelle che sono le attività di donazione alimentare realizziamo anche laboratori per persone svantaggiate e sono tanti anni che stiamo cercando di richiedere un locale dove poter coinvolgere i giovani che hanno intenzione di apprendere un lavoro perché Braccia Aperta è nata con questo scopo di mettere a disposizione dei volontari in luoghi di disagio in percorsi formativi nel carcere di Piesaro abbiamo organizzato insieme anche altre associazioni corsi di meccanico bici, tecnico elettrodomestici, cucina e cerchiamo di coinvolgere anche altri artigiani quindi sarebbe secondo me un'opportunità per la città per la collettività proseguire con questi tipi di attività Prosegue il percorso di candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 in un dialogo costante con territorio e cittadini il prossimo incontro è in programma domani, mercoledì 6 ottobre in una lunga giornata che comincerà alle 9 al Liceo Mengaroni con il confronto con scuole e studenti e continuerà alle 12.30 all'Istituto Bramante Genga nel dibattito con rappresentanti di quartiere, artisti, operatori culturali confronti finalizzati a realizzare il dossier di candidatura da presentare al Ministero Sono 29 i comuni della provincia di Pesaro Urbino sotto i 5.000 abitanti che potranno accedere al piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni previsto dal Ministero delle Infrastrutture Attraverso un comunicato stampa Moreno Bordoni e Fausto Baldarelli della CNA Pesaro Urbino applaudono ad un provvedimento nato per rendere operativo il fondo da 160 milioni di euro destinato allo sviluppo economico, sociale e culturale dei borghi contrastandone lo spopolamento Il presidente e vicepresidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e Mirko Carloni hanno partecipato oggi al Teatro della Fortuna di Fano all'evento L'agricoltura che verrà verso un pianeta più green e sostenibile promosso dalla Coldiretti delle Marche con la partecipazione del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini Lavoriamo per rendere autorevole, forte e sostenibile la nostra agricoltura garantendo dignità e reddito ai nostri produttori Questa è la promessa dell'amministrazione rivolta a un comparto ritenuto prioritario dell'economia regionale E dopo la fiera del tartufo di Pergola cominciata domenica scorsa partirà questo fine settimana a Sant'Angelo Invado anche la 58esima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco delle Marche da Carlo Cracco a Tommaso Trussardi tanti ospiti ad un evento che si terrà in tutti i weekend di ottobre e al quale sarà possibile accedere solamente se muniti di Green Pass Sentiamo a tal proposito quindi le interviste realizzate da Edoardo Razzi Per questa mostra abbiamo deciso di spalmare gli appuntamenti del tartufo d'oro uno ogni domenica in modo da avere sempre degli ospiti eccellenti da portare alla corte di re tartufo Iniziamo appunto con Carlo Cracco nel primo weekend che sarà anche quello del raduno di auto d'epoca e poi abbiamo un secondo weekend dove sarà presente Paolo Simoncelli della fondazione Simoncelli in abbinamento al motoraduno internazionale del tartufo che è uno degli appuntamenti più attesi dai vadesi e non solo perché richiama in città centauri da tutta Europa Il terzo weekend invece sarà dedicato alla moda con la presenza di Tommaso Trussardi mentre il quarto weekend sarà dedicato alle storie dei marchigiani che sono distinti in questo anno e alla fiera del tartufo che è l'appuntamento che chiude un po' la nostra rassegna Sarà la prima effettiva mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle marche che è completamente formulata dalla nostra amministrazione che è in carico dal settembre dell'anno scorso quindi poi l'anno scorso ci erano delle vicende sociosanitarie particolari che abbiamo vissuto tutti ma chiaramente la nostra amministrazione è entrata quando già sostanzialmente il format era già stato definito in tutti i suoi aspetti Il movimento che genera in termini di persone, di flusso di persone è molto importante quindi veniamo poi da un periodo particolarmente gravoso per l'attività commerciale, per l'inogastronomia, per i bar quindi è un momento di ripresa speriamo che sia completo a differenza di quello che è avvenuto l'anno scorso delle due settimane, speriamo che quest'anno sia un evento completo di quattro settimane è chiaro, sarà sempre un evento in completa sicurezza perché poi non ci dobbiamo dimenticare che distanziamento sociale, meccanismi di protezione individuale, green pass chiaro che l'accesso sarà consentito nell'area della festa solo ai possessori di green pass però speriamo che sia intanto una festa completa di quattro settimane e che comunque dia respiro e dia un ristoro sostanzialmente alle attività economiche locali quest'anno abbiamo rivisitato un po' l'offerta dell'organizzazione della manifestazione già partendo dal soggetto che organizza l'evento Chi Appennino un'associazione culturale molto importante che opera già sul nostro territorio ci piaceva l'idea intanto di valorizzare le professionalità, il capitale umano che è presente nel nostro territorio e poi ci piaceva anche l'idea che ci hanno prospettato gli organizzatori di rivisitare un po' il format di tutte le quattro settimane sostanzialmente avremo il premio che è spalmato tutte le quattro settimane perché gli interlocutori, i soggetti che saranno premiati non faranno una toccata e fuga a Sant'Angelo per ritirare il premio ma vivranno un'esperienza un po' più completa diciamo così E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport domani sera alle 20.30 la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro giocherà in turno infrasettimanale la sua seconda gara di campionato nonché la prima partita alla Vitrifrigo Arena alla presenza del pubblico un ritorno sugli spalti che era atteso pensate da giugno 2020 Da gennaio 2020 a ottobre 2021 tanto è passato dall'ultima partita disputata alla Vitrifrigo Arena dalla VL sportivamente parlando un'astinenza simile ad un'era geologica trascorsa tra blocco per pandemia campionato 2020-2021 interamente senza pubblico campionato 2021-2022 appena ripartito con palasport aperti a capienza ridotta Un digiuno di pubblico che si interromperà mercoledì sera quando la Carpegna Prosciutto Basket alle 20.30 affronterà Trieste in una seconda giornata di campionato rinviata di qualche giorno per l'arena occupata dagli europei di ginnastica aerobica e acrobatica Si riparte con mille tifosi abbonati e una campagna di fidelizzazione che riprenderà giovedì Si riparte con una squadra che al debutto di Sassari ha perso sì ma testa alta e guarda con fiducia al debutto in casa da affrontare anche con l'ultimo ingaggio di mercato di Tyler Larson Abbiamo lavorato su tanti aspetti volevo vedere altri miglioramenti che abbiamo visto in partita scorsa quando abbiamo iniziato il campionato A venerdì abbiamo potuto avere un nuovo giocatore Larson nel primo allenamento fino ad adesso sono arrivati quattro giorni i segnali di quel giocatore sono positivi però come io ce l'ha tanta esperienza non voglio giudicare dopo quegli allenamenti che sono andati bene lui fisicamente sta senza problemi ha preso le dinamiche della squadra in modo super veloce dopo l'allenamento di questa sera decido sulla quale strada andare o con lui in quintetto o con quintetto che è cominciato in Sassari bisogno vedere c'è sempre pro e contra pro essere che da principio entra tutto bene però non è contra e che non voglio mettere tanta pressione adesso su di lui in prima giornata E vi ricordiamo anche che la campagna abbonamenti per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro continua andrà avanti e adesso invece vediamo qual è la programmazione di Rossini TV questa sera infatti esaltiamo la nostra bellissima provincia di Pesaro Urbino parliamo di Gino Girolomoni in questo bellissimo documentario un racconto, uno spettacolo su Gino Girolomoni il padre appunto del biologico nella nostra provincia di Pesaro Urbino alle 21.20 quindi non perdetevi questo meraviglioso racconto dalla semina al cielo e vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa tutti i giorni da lunedì al sabato in diretta alle 7.20 sul canale 633 e in diretta alle 7.20 anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet RossiniTV.it queste che vedete sono tutte le repliche della stessa edizione che potete vedere e anche la nostra applicazione vi ricordiamo di scaricare di portare sempre con voi sul vostro smartphone è gratuita quindi potete farlo comodamente su Google Play e App Store ho detto davvero tutto adesso vi lascio con il meteo per vedere come sarà il tempo ai prossimi giorni ci rivediamo domani mattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini e poi vediamo